Uno straordinario evento, quello che ospiterà Taranto domani al Teatro Orfeo. Giovanni Bellucci in Magic Chopin con l'Orchestra della Magna Grecia. Si tratta di uno degli appuntamenti più prestigiosi della 24esima edizione di eventi musicali per la stagione concertistica 2015-2016 dell'Istituzione Concertistica Orchestrale della Magna Grecia. Non è mai troppo tardi. Giovanni Bellucci ha scoperto il pianoforte in un'età che per i pianisti è considerata tarda. Aveva già 14 anni, iniziando subito a studiarlo presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la direzione di Franco Medori. Il concerto sarà diretto da Luigi Piovano che abbiamo ascoltato alla vigilia dell'evento. È un concerto meraviglioso con un programma veramente da grande stagione. Completamente diversi i due brani, così come completamente diversi i periodi storici della scrittura del concerto per pianoforte che vede uno Chopin giovanissimo, 19enne. È invece la quarta di Brahms che vede la composizione di un Brahms maturo, un Brahms cinquantenne che probabilmente vuol essere una specie di testamento di quello che nella sua vita era stata forse la mancanza degli affetti proprio familiari di una moglie, di figli. C'è una malinconia e una solitudine in questa sinfonia che pervade quasi tutta la sinfonia a parte il terzo movimento, l'allegro giocoso. Ringrazio ancora l'orchestra per questo lavoro straordinario che stiamo facendo e il solista che ha contribuito sicuramente a porre una ciliegina sulla torta su questo programma fantastico.